Ehi, pionista, cosa fai in giro? Sono a carrezza, mi sono. Sì, è ferrato, ti cercavo su uno dell'Inter, non ti ricordi che mi hai fatto il culo. Ah, ti stai ricordando? Sì, quello che mi faceva il culo che sono uscito dalla cempa. Sì, sì, sono proprio lui. Guarda che adesso ti facciamo un culo così proprio, guarda, ciao, ciao, ciao Donnino, ciao, ciao, ciao.